Mettevano a segno estorsioni e danni di commercianti del litorale Domizio anche attraverso l'imposizione della fornitura di apparecchiature elettroniche per conto della Camorra. Per questo motivo, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dai magistrati della DDA di Napoli, i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di cinque indagati, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di estorsione e illecita concorrenza aggravati dal metodo mafioso. L'attività d'indagine condotta da ottobre 2012 a settembre 2013 ha permesso di ricostruire l'assetto geocriminale del sodalizio venutosi a creare dopo la disarticolazione del gruppo Venosa Reccia, a seguito della quale alcuni affiliati sono confluiti nelle fila della fazione Schiavone, altri hanno dato vita a una nuova compagine facente capo alla fazione Bidognetti. Le risultanze investigative hanno permesso di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, in ordine alla commissione di vari delitti di estorsione e danni di commercianti della zona del litorale Domizio. È stato anche possibile individuare le figure apicali del gruppo criminale succedutesi nel tempo in conseguenza delle numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato all'arresto dei principali esponenti del sodalizio.